Vivi tutte le emozioni dello sport triestino. Il Caffè dello Sport. Con Guido Roberti e Massimo Petronio. In onda tutti i martedì alle 14.15 e in replica alle 20.15. Triestina e calcio dilettanti. Pallacanestro Trieste e molto altro per scoprire storie, curiosità e protagonisti della nostra città. Segui la redazione sportiva anche su facebook.com slash ilcaffèdellosport. Il Caffè dello Sport. Un modo nuovo e giovane di vivere lo sport triestino. Il Caffè dello Sport. Ogni martedì su Radioattività.